Blizz contro i posteggiatori abusivi, gli agenti della squadra mobile di Trapani ne hanno bloccati tre, per loro sono scantate sanzioni amministrative. Aizzava i cani contro i turisti, protagonista della vicenda una donna che è stata denunciata e è accaduto nell'isola di Favignane. Impianto in sovraccarico, continuano le lunghe file di mezzi davanti alla discarica di Borranea dove arrivano i rifiuti di 28 comuni. Fine settimana all'insegna dei cavalli, iniziative oggi e domani a Castellamare del Golfo e San Vitolo Capo per la chiusura del progetto Equimedev. Il punto sul mercato, tantissimi nomi accostati nelle ultime ore a Trapani, si tratta soprattutto di attaccanti. Verso la riforma della forestale e nell'approfondimento della seconda edizione ci occuperemo della proposta di riordino varata dall'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici. Diverse le novità in arrivo in materia di gestione dei boschi e attività per prevenire gli incendi. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione del nostro notiziario. Quelli che avete appena sentito erano i principali titoli delle nostre notizie. Al rientro torniamo con tutte le altre notizie e gli approfondimenti. Blizz della polizia di Trapani contro i posteggiatori abusivi. In tre sono stati denunciati e multati in servizio. Gli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile di Trapani hanno individuato tre posteggiatori abusivi che stazionavano nei pressi dell'ingresso della funivia di Erice Casasanta. Oltre le sanzioni amministrative, i tutori dell'ordine hanno sequestrato una somma complessiva di 200 euro che sarebbero i proventi dell'attività illecita. L'operazione rientra nell'ambito di un servizio predisposto dal questore Maurizio Agricola per reprimere il fenomeno della presenza di posteggiatori fuorilegge in città e nel suo interland. Sulla vicenda è intervenuta l'associazione Codici. Le segnalazioni che ci sono pervenute e che abbiamo inoltrato al prefetto nei giorni scorsi come associazione di tutela del cittadino, unitamente alla richiesta di intervento avanzate anche dal progetto per Trapani e cittadini per Erice, si legge in una nota diramata ieri, cominciano a portare qualche risultato. L'intervento della polizia ha tutelato l'immagine della città agli occhi dei turisti che giornalmente visitano il nostro territorio. Aizzava i cani contro i turisti presenti a Favignana, denunciata una donna. Vediamo. Avrebbe aizzato i suoi due cani contro chiunque si avvicinasse alla sua abitazione, anche contro i turisti in vacanza a Favignana. La proprietaria è stata denunciata mentre gli animali sono stati confiscati su disposizione del sindaco dell'Eca, di Giuseppe Pagoto. Dopo la cattura, ad eseguire i blizzi sono stati gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, le bestiole non sono finite nel canile. Il primo cittadino infatti ha contattato il presidente nazionale del nucleo operativo italiano tutela animale Enrico Rizzi per trovare una soluzione alternativa. Così i due cani hanno trovato uno stallo momentaneo in attesa di trovare una famiglia disposta ad adottarli, a sostenere le spese per il mantenimento dei due cani e l'amministrazione comunale favignanese. Il primo luglio alle ore 18, in occasione del trigesimo della morte del maresciallo Silvio Mirarchi, sarà celebrata una messa nella Chiesa Maria Santissima, ausiliatrice di Marsala. Sarà presente il comandante generale dell'arma dei carabinieri Tullio del Sette. La funzione sarà preseduta invece dal vescovo di Mazzara del Vallo, Domenico Mogavero, e concelebrata dal cappellano militare Don Salvatore Falzone. Continua a tenere banco l'emergenza rifiuti con la discarica di Borranea congestionata dai mezzi provenienti dai 28 comuni per scaricare i loro rifiuti dopo l'ordinanza emessa dal presidente della regione. Vediamo i dettagli nel servizio. I mezzi restano in fila davanti i cancelli della discarica con tempi di attesa piuttosto lunghi, circa due giorni, come riferito dagli autisti e degli autocompattatori, sempre più esasperati da questa situazione che va avanti ormai da giorni. E al momento non si intravedono spiragli di soluzione, tutt'altro. L'impianto, proprietà del comune di Trapani, è realizzato per la gestione e raccolta dei rifiuti nel territorio di Trapani e congestionato. La regione, per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Sicilia con molte discariche dell'isola come Siculiana, ormai piene, ha autorizzato diversi comuni a conferire a Borranea, che però non è attrezzata per ricevere tutta questa mole di rifiuti. L'impianto è in sovraccarico, come ribadito dall'assessore all'ecologia e ambiente Giuseppe Licata, che si è detto molto preoccupato, visto che l'eccesso di lavoro potrebbe compromettere le stesse macchine, a partire dal TMB attrezzatura che si occupa della selezione dei rifiuti, scartando quelli più pesanti, che potrebbero causare seri danni. Non ci sono poi adeguati piazzali di stoccaggio. Per non dire che la nuova vasca F, inaugurata poco tempo fa, continuando così, si riempirà nel giro di pochi mesi. Si ipotizza già entro i primi sei mesi del 2017, con la conseguenza che, a questo punto, anche il comune di Trapani si ritroverà senza un sito dove portare i propri rifiuti, con la conseguenza di dover scaricare chissà in quale impianto su autorizzazione della Regione, sempre a suon di ordinanze per fronteggiare l'emergenza, con tutte le conseguenze, anche in termini di chilometri, da percorrere e costi da sostenere. Intanto, per tamponare la situazione la Trapani Servizi, la società che gestisce la discarica di Borranea ha già programmato un intervento di manutenzione sull'impianto, proprio per garantirne la piena efficienza che si vada ad aggiungere alla lubrificazione e ingrassaggio delle macchine fatte due volte al giorno, fermo restando i limiti strutturali con i fisiologici tempi di conferimento circa 30 minuti a camion. Insomma, la fila dei 50 e passamezzi davanti ai cancelli sembra destinata a continuare. Se non ad allungarsi ulteriormente con tutte le conseguenze sui servizi di raccolta dei rifiuti nei centri urbani. Gli autocompattatori, non potendo scaricare subito, restano pieni per giorni, il che finisce col rallentare e compromettere la raccolta dei rifiuti nelle città. Il rischio, insomma, è di ritrovarsi con cumuli di immondizia nelle strade. Il comandante della Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo, Giovetti, è stato in visita al distretto della Pesca. Vediamo. In un clima di cordialità e collaborazione è avvenuto l'incontro presso la sede del distretto produttivo della Pesca della Crescita Blu fra il comandante della Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo, Giuseppe Giovetti, ed il presidente del distretto, Giovanni Tumbiolo. Nel corso del lungo ed articolato incontro sono stati trattati diversi ed importanti temi per l'economia del cluster del mare. Dopo lo scambio di doni, la firma sul libro d'onore da parte del comandante Giovetti è stata affrontata in primis l'annosa problematica del porto canale di Mazzara del Vallo, che ad oggi risulta inadeguato alle esigenze della più grande flotta peschereccia del Mediterraneo. In linea con i risultati del recente incontro avvenuto presso la sede del gigantiere navale Mekanav, associato al distretto, il comandante Giovetti ed il presidente Tumbiolo hanno applaudito all'azione sinergica del comune di Mazzara del Vallo e della marineria finalizzata alla immediata soluzione attraverso la richiesta della convocazione di un tavolo tecnico-politico con tutte le parti interessate e preseduto dal prefetto di Trapani, Leopoldo Falco. Altra importante questione affrontata è quella relativa alla sicurezza dei nostri pescatori in alto mare e ai rapporti con i paresi riveraschi. Infine il comandante Giovetti ha confermato la volontà della Capitanità di Porto a partecipare attivamente con iniziative di alto respiro istituzionale alla prossima edizione, la quinta, di Blue Sealand, che si terrà dal 5 al 9 ottobre a Palermo e Mazzara del Vallo, che avrà come tema il cluster dei distretti e la Blue Economy come strumenti di prevenzione dello spreco alimentare. Oggi alle 19 al Museo San Rocco di Trapani sarà inaugurata la mostra formalmente degli artisti contemporanei Iano Sicura, scultore, Franco Lippi, pittore. Si tratta di una mostra itinerante che dopo essere stata a Siracusa sarà a Trapani fino al 20 agosto e dopo si sposterà in Argentina al Museo Sivori di Buenos Aires. L'iniziativa è sostenuta dal Rotary Club Trapani Birgimozzi, guidato dalla dottoressa Vita Maltese. Andiamo avanti con le notizie. Questa mattina in via Manzoni al Caffè delle Rose si è aperta la raccolta di firme organizzata dal PSI contro il progetto di pista ciclabile portato avanti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Tranchida. Se mentre la prima era folcloristica e cromaticamente assurda, questa supera tutti i limiti perché non credo sia opinabile o quantomeno razionale pensare di poter apporre delle barriere fisse come sono dei pali in metallo lungo una pubblica via che oltremoto la restringono e che in particolari circostanze di traffico anche in periodo di caos o magari uno che sta andando all'ospedale a lasciare una bambina che sta male e cose vale, magari trovarsi questi ostacoli davanti diventa molto pericoloso. Io ritengo che sia veramente assurdo e impensabile che si possa in un paese che cos'è definito civile, in uno dei borghi più belli d'Italia, ad Elice, che ci siano queste cose. Quindi non è un no alla pista ciclabile ma è un no a come è stata realizzata. Allora, che le piste ciclabili oggi sono di moda anche se a mio avviso non hanno tutta questa importanza mi sta bene farla perché noi dobbiamo stare a passo con i tempi, certo non abbiamo la mentalità scandinava dove le persone si sanno autorregolare, siamo sempre siciliani ma non vuol dire che ci mettono i paletti, i paletti sono semplicemente assurdi e privi di ogni razionalità, poi di notte questi paletti a mio avviso hanno una segnaletica che le ha viste la presenza troppo legata al paletto e non c'è luce perché non l'ho vista, magari qualcuno ci sarà, dove sono passato io non ce l'è. Questa è veramente, a parte un po' brutta vedersi e poi penso anche molto pericolosa, siamo passati dalle strisce a terra a barriere architettoniche che non, secondo me, no. Firmiamo per il no. Si concludono domani i festeggiamenti d'onore di San Francesco di Paola a vita in occasione dei 600 anni dalla sua nascita. Domani alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa e poi la solenne processione dell'antica statua. Ad accompagnare la manifestazione religiosa sarà la banda musicale Città di Paceco diretta dal maestro Claudio Maltese. Cimitero di Trapani, al via l'estumulazione, il provvedimento adottato nei giorni scorsi prevede al prossimo 25 luglio l'inizio dei lavori. Vediamo. Sembra proprio che questa volta, dopo le tante denunce ed anche i clamori suscitati da iniziative istituzionali, atti ispettivi e interrogazioni intraprese da parlamentari della nostra città, il problema del sovraffollamento della Camera Mortuari e dello stazionamento in essa, oltre ogni limite consentito, sia davvero per essere risolto. Infatti, procedendo nel programma da tempo annunciato, tendente al recupero di un maggior numero possibile di loculi da mettere a disposizione di una eventuale utenza, il Comune di Trapani, con determina dirigenziale del 23 giugno scorso, ha deliberato il procedimento di estumulazione ordinaria di 35 salme per scadenza ventennale delle concessioni. Come è previsto quindi, gli elenchi delle salme assoggettate al provvedimento, parte integrante dell'atto adottato, saranno pubblicati nell'albo pretorio online, nell'albo cimiteriale e nel sito istituzionale del Comune di Trapani, www.comune.trapani.it. Tali operazioni avranno inizio il giorno 25 luglio, secondo un calendario e una programmazione che saranno predisposti dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali. I familiari dei defunti, oltre che visionare gli elenchi, possono chiedere informazioni presso gli uffici dei servizi cimiteriali, siti in piazza Cimitero 37. Si tratta di un primo step a cui presto altri ne dovrebbero seguire, in uno al completamento di altro edificio cimiteriale nella zona dei campi di inumazione, reso possibile al recupero di precedente finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti. Domani alle 21 alla Villetta Faro di San Vitolo Capo, Nini Ravazza presenterà il libro di Donatella Sole, mi ricordo di San Vitolo Capo, un volume di memorie scritto da chi il paese lo ha conosciuto da bambina ed è cresciuta insieme ad esso, registrandone i mutamenti antropologici e urbanistici. L'evento si inserisce nella giornata dedicata a quei ragazzi degli anni 70 e 80 che a San Vito trascorsero le loro giovanili vacanze estive, che per il secondo anno consecutivo si ritroveranno nel paese della Costa Gaia, provenienti da tutta Italia per un romantico e affettuoso Amarcordi, il patrocinio dell'iniziativa e del comune di San Vitolo Capo. Oggi e domani tra Castellammare e proprio San Vitolo Capo si terranno una serie di iniziative organizzate dal Libero Consorzio di Trapani per la chiusura del progetto Equimedev, finanziato con fondi comunitari in partenariato con la Tunisia. Vediamo. Gli appuntamenti si apriranno questo pomeriggio alle 17 a Castellammare del Golfo, a Largo Petrolo, con una serie di eventi, ovvero la vetrina di cavalli di razza, il volo del falco e lo spettacolo, e quest'ultimo con inizio attorno alle ore 21. Le iniziative domani si sposteranno a San Vitolo Capo, dove sarà allestito uno stand espositivo degli strumenti del cavallo nei secoli con un relativo servizio di desk informativo. A partire dalle 17 al Centro Culturale di Via Savoia si terrà invece un convegno sul turismo equestre. Previsti gli interventi di esperti in turismo e rappresentanti di partner di progetto italiani e tunisini. Alle 21 sulla spiaggia, in zona Campetti di Calcio, si sarà infine un grande spettacolo teatrale equestre con la partecipazione di ballerini, volteggiatori e cavalieri, dove poesia, virtuosismo fisico, danza e musica si intrecceranno nell'esibizione. E adesso alcuni appuntamenti. Tutto pronto a Marsala per il nuovo spettacolo del teatro abusivo Marsala, che verrà presentato questo pomeriggio alle 18 al primo piano di Palazzo Fici, sede dell'Enoteca Comunale. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'associazione Ozium, è un'anteprima in musica e parole che spiega questa nuova apparizione culturale alla presenza del regista Massimo Pastore e degli attori protagonisti del lavoro, lo stato d'assedio di Albert Camus. Questa sera invece alle 22 sul piccolo palco del Santiago Art Café di Via Torre Arsa a Trapani, adiacente alla libreria Giunti, arrivano i palermitani bottega retro con il loro nuovo lavoro discografico dal titolo La Grande Tristessa. Prodotti da Tony Carbone e dei De Novo, la bottega si distingue per le notevoli capacità attoriali del duo fondatore del progetto Coco Gulotta e Alberto Di Rosa, che con una comica complicità danno vita ad uno show fatto di canzoni standard da Tweet Song, canzoncine di 140 caratteri. L'appuntamento con la bottega retro è quindi per questa sera alle 22 a Santiago Art Café di Via Torre Arsa a Trapani. Adesso pubblicità e poi rientriamo con le notizie sportive. E adesso passiamo allo sport, tantissimi nomi accostati al Trapani nelle ultime ore, vediamo di chi si tratta nel servizio. Il calcio mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma le trattative sono già in corso e sono tanti nomi accostati al Trapani, soprattutto attaccanti. La voce rimbalzata negli ultimi giorni è quella di un possibile interesse del Trapani per l'attaccante dell'Atalanta Giuseppe De Luca. Il giocatore classe 91 nell'ultima stagione in prestito al Bari ha messo a segno 7 gol e 5 assist e potrebbe incarnare le caratteristiche tecniche ricercate dal duo Faggiano Cosmi, ma ancora nulla di confermato. Un altro giocatore che si pensa possa arrivare a Trapani, agevolato dalla complessa situazione societaria del Pavia, è Andrea Ferretti, punta centrale di 1,87 m, che nell'ultima stagione in Lega Pro con i Biancorossi ha messo a segno 16 reti in 29 partite. Da non dimenticare però che bisogna sempre fare conti con il parametro della lista. In serie B è possibile tesserare 18 over 21, due calciatori bandiera e un illimitato numero di under 21, ovvero calciatori nati dal 95 in poi. Sulla base di questo Canotto e Fiorito prenderebbero il posto di Basso e Perticone, mentre molto probabilmente Claudio Sparacello, classe 95, rientrato dal prestito al Padova, ha buone possibilità di far parte dell'organico per la nuova stagione e considerato anche il fatto che non rientrerebbe nella lista degli over. Oltre a lui sono rientrati a Trapani, Curiale, da Lecce, Feola, dall'Arezzo, Marcone e dal Verona e molto probabilmente tornerà anche Nadarevic che non verrà riscattato dal Novara. Il Trapani inoltre starebbe pensando ad ingaggiare a titolo definitivo l'attaccante brasiliano Caio Decenco, già in prestito dal Pavia, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. E Scogna Miglio avrebbe ricevuto una proposta dagli inglesi del Queen Park Rangers, ma questa ipotesi non trova conferme. Prima di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti su Tele Sud, questa sera alle 19.40 andrà in onda il magazine di TG Sud. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, ma vi ricordo che fra pochissimo ritorniamo come sempre con la nostra seconda edizione, vi aspetto. Grazie a tutti.